Hashtag noi amiamo gli animali. L'eterna sfida tra cinofili e gattofili. Non si tratta solo di capire le differenze tra cane e gatto, ma anche tra coloro che scelgono gli uni o gli altri come animali da compagnia. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo tutte le caratteristiche e le differenze tra queste due tipologie di padroni. Stare accanto all'uomo in realtà ha cambiato le abitudini sia dei cani sia dei gatti che hanno visto alcune loro peculiarità affievolirsi. Pensiamo all'istinto da cacciatore del felino o alle inclinazioni dell'antenato del cane, il lupo. In linea di massima si può dire che siano diventati più mansueti e addomesticati fin dai tempi della preistoria. Il padrone che sceglie un cane o un gatto però non lo fa solo perché lo vede più affine al suo modo di essere, ma a volte valuta anche altri fattori, come ad esempio il tempo a disposizione da dedicargli tale da garantirgli il giusto apporto di cure e attenzioni. Secondo alcuni studi pare che i gatti adottino le stesse abitudini dei loro padroni e i cani addirittura le loro sembianze per il cosiddetto principio di familiarità. Secondo lo studioso Stanley Koren si tratta di un meccanismo di subconscio che porta un umano a scegliere l'uno o l'altro animale. Quindi qual è la causa principale alla base di questa importante scelta? Perché ci si riconosce nell'uno o nell'altro? Di conseguenza la convivenza con il quattro zampe preferito spesso riesce perfettamente perché alla base vi sono affinità molto importanti. Grazie dunque al carattere simile, alle comuni propensioni e al modo stesso di affrontare le giornate, non sarà un problema dividere la nostra vita con lui. Per questo video è proprio tutto. Se volete saperne ancora di più su cosa spinge un futuro padrone a scegliere un cane o un gatto come animale da compagnia, cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi quale preferite tra cani e gatti? E a quali di essi vi sentite più simili? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!